Nel gennaio 2002 è partito dalla Toscana il primo treno della memoria diretto ai campi di Auschwitz e Birkenau. Da allora fino ad oggi la tradizione si è ripetuta per 10 volte in 14 anni, portando in Polonia 7000 studenti toscani e oltre 600 insegnanti. Un'iniziativa molto importante che coinvolge tantissimi giovani studenti delle scuole, studenti universitari di tutte le parti della Toscana e anche tanti insegnanti che insieme in questo anno hanno riflettuto sul tema della Shoah, sul tema dei distermini, sul tema del rispetto delle differenze, sul tema della costruzione appunto di una cittadinanza consapevole e civile. Il decimo treno della memoria sarà dedicato quest'anno a Primo Levi, lo scrittore reduce da Auschwitz, scomparso nel 1987, che ha fatto conoscere al mondo l'incubo dei campi di sterminio con il libro Se questo è un uomo. Il treno partirà a mezzogiorno di lunedì 23 gennaio dalla stazione di Santa Maria Novella. Sopra ci saranno 500 studenti da 59 scuole, provenienti da tutte le province e 60 insegnanti. Parteciperanno anche 60 studenti universitari di Firenze, Pisa e Siena. Ad accompagnarli in questo viaggio nel tempo e nello spazio saranno alcuni testimoni diretti dello sterminio nazista, tra cui le sorelle Anna e Tatiana Bucci, le uniche bambine italiane sopravvissute perché scelte dal dottor Mengele come cavie per gli esperimenti. Per loro sarà l'ottava edizione del treno della memoria. Tornerà anche Marcello Martini, giovane staffetta partigiana della Resistenza, deportato a 14 anni a Mauthausen. Martini arriverà in aereo a Cracovia, dove incontrerà i ragazzi insieme a Vera Michelin Salomon, deportata politica che nel 1943 scelse di partecipare alla Resistenza non armata a Roma. Si crede nell'importanza di uno strumento, nel senso migliore della parola, che serva ai giovani per far capire i meccanismi che portano l'uomo a arrivare a delle nefandezze, a dei crimini così terribili, perché ahimè, come diceva Primo Levi, è successo, può succedere ancora, magari in un luogo diverso, in forme diverse. Basti pensare del vent'anni fa, nella ex Jugoslavia, quindi a poche braccia di mare da qui, usavano i bambini per il tiro al piccione come avveniva esattamente nei campi di sterminio. Quindi capire i meccanismi vuol dire in qualche modo avere dei richiami a un vaccino. Il vaccino è la conoscenza. Primo Levi diceva comprendere è impossibile, conosce è necessario. E se uno conosce poi comincia anche a comprendere. Grazie agli hashtag Toscana Memoria, Treno Memoria 17 e Giorno della Memoria, i partecipanti potranno condividere in rete e sui social network le loro emozioni, con brevi video, foto, frasi, impressioni sulla loro esperienza. Il racconto crossmediale che ne scaturirà diventerà patrimonio condiviso di tutta la comunità toscana.